Una manifestazione voluta dall'amministrazione comunale di Ioppolo con diversi momenti e un unico trait d'union, costituito dal contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza di genere. L'assessore Carmelina Argento. L'amministrazione comunale ha voluto fortemente questa manifestazione, nel rosso si indossa e non si versa, appunto per far sentire il nostro no accorato contro la violenza sulle donne. C'è stata una camminata corsa che visto partecipe molte e molte persone che hanno sentito la voglia di appunto partecipare e far sentire il loro no alla violenza contro le donne. E poi c'è stata un'altra giornata in cui invece questo no accorato si è manifestato attraverso pièce teatrali, attraverso balli, attraverso canzoni che ricordano appunto quello che ogni giorno la donna deve subire a causa dei maltrattamenti. Abbiamo voluto appunto questo non per ricordare i maltrattamenti nei confronti delle donne, ma per dire che noi ci siamo, che le istituzioni ci sono, che vogliamo fortemente che le istituzioni possono proteggere, possono accogliere le denunce e possono far sentire alle donne che non sono sole. Per questo IOPOL ha voluto questa manifestazione. E la popolazione, soprattutto i giovani, come hanno risposto? Hanno risposto bene perché purtroppo in mass media ogni giorno vediamo momenti e fatti di cronaca spiacevoli, quindi credo che sia nel sentire di ogni persona il desiderio appunto di manifestare no a questa violenza, dire basta, perché dobbiamo dire basta a questa violenza contro le donne e contro ogni forma di violenza, contro gli animali, contro ogni essere umano.